Gentili telespettatori, buona giornata. Mario Giordano, nella sua trasmissione Fuori dal Coro, è furioso contro la riforma Cartabia. Questa volta nel mirino c'è il Far West dell'Italia, dove si parla che più o meno si riesce sempre a farla franca. Tu imbratti il Senato, ti arrestano e ti liberano. Tu combini qualcosa, ti arrestano e ti liberano il giorno dopo. Insomma, l'Italia sotto tanti aspetti è la Repubblica delle Banane. Eh sì, purtroppo lo abbiamo visto. Molti si sono chiesti, ma è possibile che la Spagna fa una legge sulle ONG dove c'è l'arresto del comandante, un milione di multa e la confisca della nave? Uno Stato sovrano che fa una legge? Tutti i cittadini sono d'accordo, tutti i partiti sono d'accordo e le ONG mute. In Italia non si riesce a fare nulla. Quindi sarete concordi con me che l'Italia, purtroppo, il nostro grande e bel paese, è una Repubblica delle Banane. E gli altri lo sanno e se ne approfittano. Il conduttore di fuori dal colo se la prende con quelli che fanno i tafferugli in autostrada, con chi è andato a imbrattare il Palazzo del Senato e soprattutto con la riforma Cartabia in vigore dal 1 gennaio. Secondo la riforma Cartabia, infatti, non è più possibile arrestare un ladro coltro in flagrante. Bisogna prima presentare regolare denuncia alle autorità competenti. Quindi se tu becchi uno che sta rubando in una casa, non è che lo puoi arrestare. Eh no. Prima devi fare la denuncia alle autorità competenti. Giordano dice, diciamo sempre che qualcosa deve cambiare. Ed effettivamente dal 1 gennaio è cambiato qualcosa. Ma in peggio! Dal 1 gennaio è entrata in vigore una nuova riforma in base alla quale non è più possibile arrestare i ladri neppure se sono colti sul fatto, mentre rubano. La riforma Cartabia è del precedente ministro della giustizia. Ha ragione Giordano? Ha ragione. Mi sembra assurda questa legge. Forse magari non lo è realmente, bisognerebbe leggerla bene, capire il perché. Però se tu vieni preso in flagranza di reato, perché non vieni arrestato? Dove sarebbe la tutela? C'è una tutela del personaggio criminoso preso sul fatto? Non è un'eccessiva, un'eccessiva prudenza nel senso. Perché questa riforma? Forse non si crede alle forze dell'ordine? Forse si dubita che quella persona presa in flagranza di reato e arrestata? Forse in realtà non c'era la flagranza di reato e non c'era il reato? Cioè vuole insinuare che magari qualche mela marcia possa arrestare qualcuno senza che realmente abbia fatto nulla? E io da lettore di giornali mi chiedo, non avendo letto la legge Cartabia, sfido chiunque di voi che abbia letto la legge Cartabia, forse un avvocato, forse un magistrato, ma leggendo i giornali, io mi chiedo perché se cogli un ladro mentre sta rubando non lo puoi arrestare? Forse perché non ti fidi degli arrestatori? Chi lo sa? Intanto quello va in carcere e poi si scopre che non aveva fatto niente? Può anche capitare, no? Uno pensano che è il ladro, invece era il proprietario di casa che era vestito da ladro perché stava facendo, non lo so, perché è fatto così e a casa sua si veste da ladro, la polizia dice, ah il ladro ha portato in galera, poi si scopre che era il proprietario della casa che stava giocando. Ecco ci sono dei casi limite, ma è questa la motivazione, perché non ci si fida di chi arresta? Perché potrebbe arrestare uno che non era, boh, non lo so. In base a quello che diccono i giornali, che adesso non si può arrestare più in flagranza di reato, io mi chiedo, se il Parlamento lo ha proposto ed è stato votato da centinaia di deputati su indicazione dei loro partiti, c'è qualcosa che mi sfugge? Probabilmente ci deve essere una giustificazione. Se la troverò scritta da qualche parte, visto che nell'articolo che ho letto Mario Giordano furioso contro la legge Cartabia sotto questo aspetto, però tutte le informazioni che dà Giordano sono queste. Non si può arrestare un ladro colto in flagrante, bisogna prima presentare regolare denuncia alle autorità competenti. Quindi il ladro lo fermi, non lo porti in galera, ma lo lasci al commissariato fino a quando hai fatto la denuncia. Dopo la denuncia il magistrato autorizzerà l'arresto. Forse così è meglio. Non è che arresti, fermi una persona che hai trovato che stava rubando, la porti in commissariato e aspetti l'autorizzazione del giudice. Ma io mi chiedo, che non sono esperto di queste cose, non è che prima era già così? Non è che prima di portare in carcere una persona ci vuole l'autorizzazione del giudice? Ecco, c'è qualche particolare che mi sfugge. Magari qualcuno di voi che ne sa qualcosa in più può lasciare dei commenti sotto a questo sotto a questo video. Perché a volte magari si commentano le cose e però c'è un retropensiero, un retroscena e poi c'è, ah caspita è vero, detta così, vista in un altro modo allora ha un senso. Vista come la racconta Giordano non ha nessun senso. Perché un Parlamento deve vietare l'arresto di un ladro che hanno beccato mentre rubava? Probabilmente c'è una spiegazione, se no non sarebbe così come si racconta, non sarebbe stato votato dal Parlamento. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Il canale Tele Italia Seconda Rete ha superato le 5 milioni di visualizzazioni, che non sono poche. Si vanno ad aggiungere alle 234 milioni, 235 milioni di Tele Italia e in totale siamo ad oltre 240 milioni di visualizzazioni. È una cifra notevole, sono pochi. Se non credo che un canale dove ci sia un opinionista che parla di politica, credo che Tele Italia sia il canale che ha più visualizzazioni, un canale dove c'è una persona che parla di politica. Credo che sia unico il canale Tele Italia del suo genere. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo al prossimo video.